Gianluca! E dai cazzo! Mi dica? Mamma! Esco! Anquiri! Questo che facciamo? Salvi, dovrei mandare questa raccomandata. Invecille! Sceno! Il normale, il normalista, il normale. Fiegalmina minchia. Il mio migliore amico è la droga. Un attimo sono sciapto da lei. Ok! Ciao ciao! Ciao ciao! Bravo! Pronto Fabri! Deca! Eh! Ho fatto un incubo! Eh! Ho fatto un sogno terribile dove c'erano tutti i nostri personaggi! Eh! Ho sognato che tornavamo! Ma infatti torniamo! Ma sì! A teatro però! A teatro! A teatro! Ma com'è il teatro? Eh! Ma allora! Aspetta! Aspetta! Siamo! Il 7 aprile a Torino al teatro Colosseo! Il 12 a Firenze alla Tusca Niole! Il 14 aprile a Padova al Gran Teatro Geox! Il 15 a Roma all'Auditorium della Conciliazione! Il 21 a Milano al teatro Cimboldi! Il 22 aprile a Bologna al teatro delle celebrazioni! Sei contento? Dai GASSO! È contento? È contento?